come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità oggi torniamo a parlare un attimino di rdc con la ricarica di aprile che arriverà nei prossimi giorni tra l'altro ho fatto anche un video dove ve ne parlo e poi se mi ricordo quando faccio il monto questo video vi metto poi la copertina qui e il collegamento anche nella scheda del video così fate prima ad andarvelo a cercare comunque la ricarica potrebbe essere anticipata rispetto alla solita scadenza però 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 potrebbe esserci qualcuno che non lo riceve ma adesso vediamo un pochino cosa succede e poi cosa fare perché vi do poi dei consigli come sempre la data di pagamento varia da persona a persona e diciamo ci sono le classiche due grosse scadenze del mese chi è in attesa di ricevere gli arretrati o la prima mensilità riceverà il pagamento il 15 e ad aprile molto probabilmente sarà anticipato a venerdì 14 comunque su questo anticipo poi vi tengo aggiornati con un nuovo video con uno short o con un post qui su youtube poi invece per tutti gli altri arriverà dal 27 del mese e qui non ci sono anticipi perché è un giorno settimanale lavorativo quindi non ci sono anticipi però come vi ho detto ci sono delle eccezioni perché qualcuno potrebbe non a a qualcuno potrebbe non arrivare il pagamento ad aprile quindi vediamo perché e cosa fare allora per tutti coloro che a marzo hanno finito le 18 mensilità per tutti coloro che si sono ritrovati con rdc sospeso o revocato e per quanto riguarda la revoca poi vi spiego dopo cosa fare oppure perché non è stato rinnovato lì se però in questo caso niente paura perché appena uno lo rinnova ricominciano i pagamenti tranquillamente da parte dell'inps sulla carta rdc ovviamente come dico sempre sempre se si hanno i giusti requisiti per poterlo richiedere e poi ricevere mi raccomando invece per quanto riguarda la revoca come vi ho detto prima c'è tutta una serie di motivazioni infinite che adesso vi faccio solo qualche piccolo esempio non hanno sottoscritto la did non hanno firmato il patto del lavoro non hanno comunicato un'attività lavorativa non è stata presentata la dsu aggiornata ovviamente e poi eccetera 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 come vi ho detto questi sono solo alcuni esempi sono diciamo i classici quelli che succedono nel 99 per cento dei casi perché la lista è veramente infinita e se stavo a dire tutti qua cioè non ne uscivamo più con questo video però in caso di questo tipo di problematica io consiglio sempre di chiamare il centralino telefonico dell'inps i numeri di telefono già li conosciamo ma ve li ripeto 803 164 oppure dal cellulare 06 164 164 non avete voglia di chiamare il centralino dell'inps perché vi da noia allora rivolgetevi al vostro caff di fiducia perché anche loro hanno la vostra situazione la vostra scheda riescono magari ad accedere ai vostri dati tramite il sito internet dell'inps e quindi riescono a capire che cosa potrebbe essere successo quindi loro sono lì a disposizione ovviamente per servirvi quindi è giusto che vi rivolgete a loro anziché stare a impazzire cercare di capire che cosa potrebbe essere un successo quindi il centralino dell'inps o vostro caffè di fiducia beh spero che questi consigli vi siano stati utili io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi mi raccomando molto importante ricordatevi di seguirmi su instagram anche qui se mi ricordo poi vi lascio nella scheda del video il collegamento al mio profilo di instagram così se volete cioè non state impazzire a cercarlo basta che cliccate sul collegamento è lui vi porta direttamente la così mi seguite anche la perché anche la faccio altre cose parlo anche di altre cose insomma ci teniamo un po di compagnia con questo è tutto vi ringrazio ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre solo sull'unico canale originale di youtube il mio aspetto ciao 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 Grazie a tutti